Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo quattordicesimo episodio dell'ignoranza tedesca Signori eccoci quindi ritrovati in questo nuovo episodio dell'ignoranza tedesca Lo scorso episodio è andato abbastanza bene perché insomma ragazzi 5 upgrade in una partita non si era mai visto Pazzesco primo oro bando alle cianci e ciancio alle bande andiamo a trovarsi il primo avversario di oggi Dai avversario trovato vediamo la squadra Strana molto strana ma non la sottovalutiamo perché se la sottovalutiamo poi ce la fa nessuno quindi occhio Posto iniziamo noi go Oddio subito e spine Vai E spine Oddio e spine E spine E spine Prima azione Primo gol 1-0 Grande spine Grandissimo Come se li ha smarcati Mamma mia Bravo Brosischi Brosischi È partito Brosischi È partito Brosischi Leitner Dalla subita a Caciunga Un po' prima Oddio da che c'è Poi Leitner Da fuori Leitner Mamma mia dopo 8 minuti C'è 2-0 Che tiro di Leitner signori Che tiro di Leitner lo voglio rivedere Mamma mia Leitner Vai Leitner Vai Moritz Bello Bello per Caciunga È partito Caciunga solo Caciunga 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 Bloccato Damn man Braxler Per Leitner Vai Leitner Che stai a far panico Leitner Leitner Oddio per Eswein Eswein Ma già te Ti do Tu vincer Bravo Kirchhoff Che però poi si intoppa No 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 Regà Bravo No No regà Non mi dì Ma regà Ha quittato Ha quittato Ha quittato Regà Ci ha dato una vittoria Mamma mia Regà E quindi Ci prendiamo 3 upgrade Perché Vittoria Porta ambiolata E rage quit Let's go Eccoci qua Dopo la vittoria 3 upgrade Spesi così Allora Leitner Via E dentro Castro Dopodiché Difesa Lo cambia tutte e due Centrali Ho messo Rudiger E Bud Stuber Signori Tony Rudiger Difessore Nuo forte Della storia Andiamo a vedere Il blocco Che abbiamo fatto Una roma Cosinone E niente Quindi con questa squadra Ci andiamo a trovare Il secondo avversario Dai Vado Vediamo la squadra Che c'ha Liga E là C'è sta Di bala Così Eh però Non è male Ok Iniziamo noi Let's go Castro Draxler Vai Draxler Vai Draxler Per Cacciunca 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 Subito Gole Rapidi Oggi Uffamia Dopo due minuti Subito Ci portai In vantaggio Con Cacciunca Dai ma come fai Bravo Vidvald Eroe Vidvald Sei un eroe Sei Goresca Può provare il tiro Goresca No Regà Oddio Che gol di Cacciunca Regà In mezzo a Grubazia Non l'avevo visto Non pensavo Potesse ball L'ha fatto Doppietta Doppietta Per Cacciunca 20 minuti Voglio rivederlo Cosa è successo Tanto la traversa De Cristo È bello Perché Caputana Dai Goresca Castro Esvain Alta dalla Prima però Goresca Per Cacciunca Dimmi che è buona Volete fermare Pepe questo Va bene Va bene Bravo Libera lo spazio Draxler Bravo Draxler Libera lo spazio Vai Cacciunca Cacciunca Da fuori Cacciunca La tripletta Di Cacciunca L'ho cercata E l'abbiamo Trovata Taglia così 3 a 0 Cacciunca 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 Particulare E' pazzesca Andate a vedere La Whisper Challenge Che regà Noi ci siamo tagliati tantissimo Speriamo che Vi tagliate pure voi E quindi niente Qua da Poli è tutto Noi ci beccamo al prossimo episodio Bella 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 Woo